Siamo Irene Brini e Carmela Ferraiolo, veniamo da Cerveteri, abbiamo uno studio di fisioterapia che si chiama Fisiolite Cerveteri da 5 anni circa e abbiamo acquistato ultimamente il macchinario della EMS delle onde d'urto, poco più di 4 mesi che ce l'abbiamo e devo dire che il corso è stato veramente utile sotto il punto di vista sia pratico che teorico e molto approfondito e sono stati bravissimi veramente i due professori e il terapista che ci hanno seguito durante questa giornata. La consigliamo sinceramente perché abbiamo visto l'utilità del macchinario e quanto effettivamente aiuta durante il recupero funzionale. E' un valido aiuto, sicuramente è parte del trattamento perché non per tutto è risolutivo utilizzando soltanto onde d'urto, però è molto buono per i tempi di recupero e soddisfazione del paziente, perché poi è vero che la seduta fa un po' male, però il risultato è fin da subito. Un ottimo ausilio alla terapia. Ciao! 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 Ciao!